Gentili telespettatori, buona giornata. Che cosa è successo a Lilligruber? Cos'è successo a Lilligruber? È successo che mentre era in un parco a Roma, vediamo quale parco era, Villa Borghese a Roma, stava facendo un po' di ginnastica e durante il consueto appuntamento con otto e mezzo dice proprio Giuseppe Cruciani, intanto, cosa è successo a Villa Borghese? A Villa Borghese gli hanno portato via la borsa, il telefonino, l'hanno derubata, probabilmente non so esattamente se lei ha visto, se gliel'hanno portata via qualcuno che è scappato o ha appoggiato la borsetta, ha fatto un po' di ginnastica, si è girata e non c'era più. Questo ancora non si è capito, ma evidentemente lei a un certo punto nella sua trasmissione improvvisamente dice Cruciani è stata costretta ad ammettere che l'immigrazione indiscriminata non è possibile. Una sentenza che non è passata inosservata a Giuseppe Cruciani. Allora, probabilmente, ma non lo sappiamo con certezza, probabilmente chi ha derubato la Gruber forse non era proprio italianissimo, forse non lo era. e Cruciani dice intanto la lega sui social con Matteo Salvini fa capire che Lilli Gruber è stata derubata da un non italiano. E poi c'è questa strana coincidenza che lei viene derubata a Villa Borghese e nella sua trasmissione a otto e mezzo dice che l'immigrazione indiscriminata non è possibile. E' un po' strano, no? Derubata e subito se la prende con l'immigrazione indiscriminata. Cruciani nota questa cosa e dice ma, 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 ma. Dice, c'è arrivata anche la Gruber, dice Cruciani alla fine. Sarà un caso, dico sarà un caso, dopo aver subito il furto della borsetta ha detto che non si possono accogliere tutti i migranti. Le due cose non saranno collegate, ma quando lo dicevano gli altri erano fasci, eccetera, eccetera. Adesso se ne esce la conduttrice simbolo della sinistra. Eh, ma, non si possono accogliere tutti i migranti. Voi tra poco la sinistra dirà che bisogna, dice poi Cruciani. Evidentemente la sinistra ci ha spesso regalato giravolte di questo tipo, ma non è stato l'ultimo a ironizzare sulla Gruber. Anche Matteo Salvini ha colto l'occasione e dicendo attenzione, anche Lilly Gruber ieri sera in diretta tv si rende conto che un'accoglienza indiscriminata e un'immigrazione incontrollata non si va da nessuna parte. Ma come? Quando lo diceva la Lega non eravamo tutti brutti e cattivi? Ben arrivata Lilly Gruber. Allora, naturalmente, poi quando le cose ti succedono direttamente, frum, togli la maschera dell'ipocrisia e metti e lascila il viso della realtà. Allora, lei, Lilly Gruber, ha risposto a tono alla Lega dicendo io non ho mai detto che sono stata derubata da un non italiano. Ecco, adesso mi sono perso le dichiarazioni esatte della Gruber che dice che a Spiterina mi hanno beccato da... insomma, vengo derubata, vado in televisione a dire che non è possibile l'immigrazione indiscriminata e mi hanno beccato subito Cruciani e Salvini dicendo hai capito? Adesso che gli rubano la borsetta dice che non è possibile l'immigrazione indiscriminata. Guardate che... lo dico anche a Salvini e a Cruciani non è che a sinistra sono favorevoli all'immigrazione clandestina e che li dipingono così, ma guardate che gli elettori di sinistra forse la pensano anche in maniera più dura degli elettori di destra perché guardate, io ho avuto a che fare diversi anni con delle persone altolocate quindi mi ricordo questo signore che era il direttore amministrativo di un famoso ospedale italiano persone che avevano studiato con titoli di studio, benestanti persone che non si perdevano una messa la domenica mi ricordo che spesso io ero... frequentavo queste persone spesso persone molto più grandi di me perché c'era un vincolo che adesso non vi sto a spiegare però io mi ero accorto che queste persone in chiesa leggevano di fronte alle amicizie erano contro Berlusconi contro la destra però in privato quello che dicevano era comparabile se non peggio di quello che dicono i cattivoni di destra su questi argomenti quindi attenzione che gli elettori di sinistra di facciata sono magari favorevoli all'immigrazione clandestina ma in realtà non lo sono non ho mai capito perché debbano fingere perché probabilmente dicono che quelli di sinistra devono vedere l'immigrazione clandestina un po' come love 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 volemose bene e quindi l'elettore di sinistra di fronte agli altri elettori di sinistra deve tenere la parte deve mantenere la parte deve fare quello che è favorevole anche se nella sua mente dice ma che caspita state dicendo quindi parliamoci chiaro quelli che sono favorevoli sono pochissimi però e a sinistra bisogna di facciata dire che si è favorevoli ma non lo si è quindi anche se Lilly Gruber è sempre sembrata una favorevole una di qua una di là in realtà no in realtà né lei né gli altri lo sono come non lo sono in Europa la sinistra europea quella che c'è in tutti e 27 gli stati non è favorevole all'immigrazione clandestina nessuno né di destra né di sinistra in Europa è favorevole a questo nessuno in Italia abbiamo questa anomalia che a sinistra fanno finta di essere favorevoli però io li ho sentiti ragionare e come vi dicevo la pensano molto in maniera più dura hanno molto più disprezzo di quelli che vengono indicati come i cattivoni di centrodestra ecco quindi attenzione che Lilly Gruber non è favorevole ai clandestini diciamo che sono ostili al centrodestra che apertamente lo dicono di non volere clandestini come è normale lo dice la legge italiana ecco arrivederci a tutti e grazie grazie